1969. La Fiat commissiona Bertone e Pininfarina lo studio di due vetture che nei primi anni 70 dovranno sostituire le sportive d'accesso della Casar, le 850 Coupé e Spider e la 124 Sport. Con il nome X19 Bertone realizza una piccola targa a motore posteriore centrale disegnata da Gandini che nel 1972 entrerà in produzione. Con il codice X18 Pininfarina studia una coppia motore trazione anteriore, nome interno Sport Giovane, entrambe sono sviluppate su pianale meccanica della Fiat 128. Torniamo al 1969. La Lancia guidata da Carlo Pesenti sta attraversando una grossa crisi. Viene rilevata per la cifra simbolica di una lira d'azione dalla Fiat che da una parte la salva dal fallimento certo, dall'altra si porta in casa un marchio prestigioso e allo stesso tempo elimina un concorrente diretto. La dirigenza Fiat trova però una situazione complessa. Ha in mano un nuovo marchio che non ha in casa alcun progetto per il futuro. In breve tempo si lavora la definizione dei nuovi modelli. Il primo di questi sarà la Beta, autodecisamente criticata dalla clientela più affezionata di chi vasso ma indubbiamente creata con grandi investimenti da parte di Fiat che, in breve tempo, strutturerà un'intera gamma completa di modelli. Alla berlina Fastback si affiancano la piacevolissima Coupé, l'originalissima giardinetta HPE e la Spider. Torniamo intanto in Pininfarina, primi mesi del 1970. Il progetto X1-8 viene stravolto. La meccanica passa al posteriore per realizzare una vettura più estrema. Il suo percorso stilistico è seguito da un giovane designer, Paolo Martin. A luglio 1971 cambia nome, ora si chiama X1-20. Continua ad essere sviluppata e nel 1972 si arriva alla definizione delle forme e alla variante Spider. Iniziano anche i test su strada. Intanto nel 1974 una strana vettura da competizione denominata Fiat Abarth SE 030 partecipa al Giro d'Italia automobilistico guidata da Giorgio Pianta. Conclude al secondo posto assoluto. Dietro le sue forme dettate da precise esigenze agonistiche si nasconde l'X1-20. Torniamo ancora in Pininfarina. Il progetto X1-20 è andato avanti e la vettura è praticamente definita in ogni suo aspetto. Si lavora nell'incertezza. La crisi energetica ha lasciato strascichi importanti e tutte le case hanno dovuto rivisitare i propri progetti. Anche la Fiat valuta l'opportunità di produrre o meno un'altra sportiva di nicchia che rischia di sovrapporsi alla X1-9. Nei primi mesi del 1975 Gianni Agnelli, Renzo Carli e Sergio Pininfarina si incontrano per decidere il futuro di questo progetto. Pare che lo stesso Agnelli abbia suggerito di marchiare la Lancia. Dopo aver appoggiato la mascherina di una Beta al frontale della X1-20 la decisione è presa. La vettura si farà a chivasso. Poco dopo al Salone di Ginevra 1975 viene presentata la nuova Lancia. Denominata Beta Monte Carlo è una sportiva pura a due posti con motore centrale e trazione posteriore. È proposta in due varianti, la Coupé e una targa definita Spider. La vettura suscita interesse anche perché in quel determinato periodo sono poche le case che coraggiosamente presentano modelli prettamente sportivi. Il suo design è moderno e proporzionato e ricorda in alcuni particolari la contemporanea Ferrari BB. Inoltre una vettura più raffinata del consueto Coupé da produttore generalista. È un modello più completo, più specialistico. È l'anello di congiunzione tra la sportiva comune e l'inarrivabile Gran Turismo e per accentuare la sua anima sportiva viene chiamato a fare da testimonial Sandro Munari, pilota ufficiale Lancia nei rally. Lo stile personale d'equilibrato della Beta Monte Carlo le varrà l'ambito Style Award del 1976, premio dedicato alla vettura dal design più bello sul mercato. Il 1976 è anche l'anno del suo debutto sul mercato americano con il nome di Beta Scorpion. Intanto si continua lo sviluppo meccanico. Si pensa da una versione più potente, dotata del 2005 Boxster da 140 CV che esordirà a breve sulla Lancia Gamma, ma l'idea viene subito accantonata per costi e tempi. Si studia anche la sovralimentazione, sia con turbo che con volumetrico, ma non avrà seguito produttivo, a parte una limitatissima serie di Scorpion Volumex destinate agli USA. A causa di alcune lacune tecniche costruttive, la Beta Monte Carlo subirà continue modifiche estetiche e meccaniche. Nel 1978 la produzione viene sospesa. La ricaduta della crisi ha raffreddato considerevolmente l'interesse per le vetture sportive. Gli amanti della guida veloce si indirizzano verso la nuova tendenza, quella delle compatte sportive. Fiat 127 Sport, Renault 5 Alpine e Golf GTI catalizzano l'attenzione. Ma per la due posti Lancia non è ancora finita. Nel 1979 viene riproposta. Il design è rinfrescato, ci sono diverse migliorie meccaniche e ha perso il nome Beta. Ora si chiama Lancia Monte Carlo. Nello stesso periodo viene schierata nel campionato mondiale Marche di gruppo 5, con una variante turbo dalla potenza elevatissima che avrà il suo momento di gloria. Sempre in ambito agonistico, dalla Beta Monte Carlo deriva la Lancia Rally 037, prima gruppo B della casa e ultima auto non 4x4 a vincere il mondiale rally. A inizio 1982 la Monte Carlo è un'esploscia di produzione, ma visto il numero di esemplari invenduti resterà ufficialmente a listino fino a settembre 1984. In totale sono stati prodotti 7.576 esemplari, di cui 1.623 coupé e 1.423 spider prima serie con guida a sinistra. La Beta Monte Carlo è una sportiva compatta, dalle forme equilibrate. La vista laterale è piacevole, linee tese e parallele ne definiscono i volumi. Alla sezione inferiore squadrata e snelli avvita dal dietro che percorre la mezzeria della fiancata, assieme alla fascia antiurti sottostante, si contrappone il padiglione contraddistinto da parabrezza molto inclinato e il montante posteriore teso che termina al limite della coda. La finestratura laterale è formata da tre cristalli, il deflettore e il vetro discendente della porta e un piccolo trapezio che snellisce l'insieme. Dietro questo parte l'arco che attraversa il tetto a disegnare un ipotetico roll bar. Lo specchio laterale è il famosissimo Vitaloni Californian. Il gocciolatoio termina la base del montante anteriore con l'incisione del logo peninfarina che assieme allo scudetto collocato sulla fascia antiurti laterale ostenta la paternità e la produzione dell'auto. Il frontale è semplice, un profilo di plastica incornicia fari e mascherina e si congiunge con il nero del paraurti. I fari hanno un disegno non troppo riuscito, poco aggressivo. Lo scudetto lancia e al centro della mascherina, ai lati del paraurti le luci di posizione e l'indicatore di direzione. Sui primi esemplari hanno trasparente bianco, successivamente le luci di direzione saranno arancioni. Il posteriore è la parte più riuscita, molto sportivo, anticipa il design di certe GT emiliane. I gruppi ottici a sviluppo orizzontale, gli stessi montati sulla prima sede della Lotus Esprit, contribuiscono a dare carattere alla vista d'insieme. Sono alloggiati su un pannello plastico stampato da letti orizzontali. Il profilo del montante è una pinna che dalla coda termina contro l'unotto verticale. Il cofano motore, incernierato sul fianco sinistro, è caratterizzato da una gobba centrale, sagomata per far spazio alla ruota di scorta collocata nel vano. Al centro una presa d'aria a fenditure parallele. Dall'esemplare numero 1486 saranno parzialmente chiuse, per evitare il ristagno di acqua piovana nel vano motore. La carrozzeria è proposta in due varianti, coupé con tetto metallico in colore carrozzeria e Spyder, in realtà una targa con tetto in tela. Questo è ripiegabile e richiudibile in un apposito vano ricavato nella sede dell'arco centrale. È un brevetto pin in farina e non è il solo portato in dote da questa vettura. Il parabrezza, per la prima volta, è incollato alla cornice e contribuisce a rigidire la scocca. Autentici pezzi di design anni 70 in cerchi in lega, dalla foggia ricercata e riuscita. I colori previsti sono bianco, rosso, verde acquamarina, azzurro e i metallizzati beige, verde, grigio chiaro, azzurro. La vista generale rivela un attento studio estetico e cromatico. I sedili sono un capolavoro stilistico. Una struttura di sostegno prestampata incornicia la seduta, bassa e profilata, lo schienale snello e il poggia testa. Sui primi esemplari gli schienali sono fissi. Dall'esemplare numero 1938 sono forniti regolabili su richiesta. Sono rivestiti in un materiale denominato TVE, tessuto vinilico elastico, una similpelle di ottima qualità e disponibile in beige, rosso bordeaux e blu. A richiesta rivestimenti in panno delle stesse tonalità di colore. La folta moquette si abbina ai colori esterni. La plancia, dal design piacevole, si sviluppa su due piani, uno inclinato in materiale plastico immediatamente sotto il parabrezza e che comprende le bocchette da reazione. L'altro, orizzontale, imbottito e rivestito in TVE abbinato ai sedili, prosegue sui pannelli porta con due sovrastrutture. La strumentazione ha una particolare scala del tachimetro con fondo scala a 250 km orari. Il volante è un due razze di diametro appropriato. Il pannello paramotore, parzialmente rivestito in TVE, termina con una mensola orizzontale che delimita l'unotto. Questo, dall'esemplare numero 1318, è termico. Il bagagliaio anteriore è decisamente capiente per una vettura a due posti e interamente rivestito in moquette. Accessori a richiesta, condizionatore e vetri elettrici. La disposizione meccanica è da sportiva pura. Il motore, montato in posizione posteriore centrale trasversale, è l'apprezzato bialbero progettato da Lampredi. Ha una cilindrata di 1995 cm3. È un motore a corsa lunga, alimentato da un carburatore doppio corpo Weber 34 DMTR. Eroga a 120 CV e 6.000 giri e ha una coppia di 16,8 kg a 3.500 giri. Il cambio è a 5 marce. L'impianto frenante a dischi sulle 4 ruote da 227 mm di diametro è servofreno. Le sospensioni sono abbastanza convenzionali, con schema MacPherson all'avantreno e retrotreno. Pneumatici 185-70-13 su cerchi da 5 pollici e mezzo. Le dimensioni sono contenute e il peso di 980 kg. Sul piano delle prestazioni la lancia dichiara una velocità massima di oltre 190 km orali e accelerazione da 0 a 100 km orali in 9,3 secondi e sul chilometro da fermo in 30,5 secondi. Consumo medio di 11 km con un litro. La posizione di guida a pochi centimetri da terra e ben allineata chiarisce subito il carattere della vettura. È una sportiva pura. Ha un ottimo bilanciamento che determina un'elevata tenuta di strada. Poco sottosterzante, prevalentemente neutra, ha un buon inserimento in curva. Il sovrasterzo si manifesta leggermente in fase di uscita ed è controllabile intuitivamente. Lo sterzo è abbastanza preciso e leggero, si appesantisce sottocarico nelle curve strette. Il cambio ha rapporti ben scalati che permettono di sfruttare completamente il potenziale del motore. La manovrabilità è buona, ma tende a peggiorare con l'utilizzo, a causa del particolare rinvio. Questo è uno dei pochissimi difetti congeniti di questo modello. La boccola dello snodo del rinvio viene consumata dallo snodo stesso e cede. I freni sono invece la parte meno riuscita. La frenata è potente, forse troppo. Le ruote anteriori tendono a bloccare e soprattutto sul bagnato questo fenomeno può diventare pericoloso. Richiedono molta pratica e attenzione. La lancia interviene più volte per ovviare il problema, ma la soluzione verrà trovata solo con la seconda serie. La seconda serie della Due Posti di Chivasso viene presentata nei primi mesi del 1979. Esteticamente varia la foggia delle pinne posteriori, con montanti in scatolato e pannelli di cristallo a richiesta sbrinabile. Il frontale è caratterizzato da una nuova mascherina che ripropone il design di tutte le nuove lancia. Cambia anche il pannello di coda, attraversato nella parte inferiore da una mostrina in alluminio satinato che integra le serigrafie identificative. Lancia a sinistra e Monte Carlo a destra. La nuova serie ha perso il suffisso beta. Nuovi cerchi in lega, più grandi e di nuovo disegno. Lo specchio retrovisore, rettangolare, è montato sul deflettore e regolabile dall'interno. Ridimensionata la gamma dei colori. Rosso vivo pastello e i metallizzati grigio, blu-argento e beige. All'interno sedili rivestiti in panno con differenti cuciture nei colori grigio, beige o blu. A richiesta pelle nera o blu. Nuovo il volante, un momo a tre razze rivestito in pelle e il pomello del cambio. Il tachimetro a scala più fitta e fondoscala a 260 km orari. Anche la meccanica vanta diverse migliorie. Il motore ha accensione elettronica differente e un nuovo carburatore, pompa benzina meccanica. La coppia passa a 17,4 kg a 3400 giri. L'alternatore è maggiorato e il filtro dell'aria viene spostato sulla parte posteriore del motore. I freni sono modificati. I dischi hanno diametro maggiorato a 251 mm. Viene eliminato il servofreno e montato un potenziatore di frenata meccanico più un regolatore al retrotreno. I cerchi, dal disegno uguale a quello delle beta coupé, sono specifici nella misura dell'offset. Hanno canale da 5 pollici e mezzo e diametro di 14 pollici. Montano pneumatici Pirelli P6 185 e 65. Alcune parti della scocca sono in zincro metal. La velocità massima dichiarata è di 195 km orari. Le Monte Carlo seconda serie prodotte sono 951 in configurazione chiusa e 564 Spider. Quasi contemporaneamente alla presentazione, la Beta Monte Carlo viene commercializzata in Inghilterra. A parte i primissimi esemplari, gli altri avranno una modifica alle pinne posteriori, che saranno costituite dagli archi in lamiera e pannelli di cristallo. Ovviamente la guida è a destra. Sono state costruite 455 Beta Monte Carlo coupé e 334 Spider della prima serie e 172 coupé e 253 Spider della seconda con la guida a destra. La particolare conformazione della Beta Monte Carlo e la possibilità di incrementare le vendite spinse la Lancia all'esplotazione negli Stati Uniti, mercato sempre attento alle piccole sportive europee. La versione americana, realizzata unicamente sulla base della Spider, doveva prima essere adeguata alle severe normative locali in tema di sicurezza e inguinamento. Inoltre doveva cambiare nome, visto che negli Stati Uniti era già commercializzata una Monte Carlo, marchiata Chevrolet. Si chiamerà Lancia Beta Scorpion. È dotata di voluminosi paraurti ad assorbimento d'urto, che portano la modifica dei gruppi ottici anteriori, ora rotondi, di grande diametro e amovibili elettricamente. Anche il pannello di coda viene modificato, così come il cofano posteriore, dotato di due ulteriori prese d'aria per il raffreddamento del motore. Quest'ultimo è sempre il bialbero Lampredi, ma con cilindrata portata a 1756 cm3 e dotato di catalizzatore, a potenza limitata a 81 CV a 5.900 giri e coppia di 12,3 kg a 3.200 giri. Questo fatto, unito al peso incrementato di circa 60 kg, mortifica le prestazioni. Si cerca di sopperire con un rapporto finale più corto, ma i dati dichiarati sono lontani dallo spirito della vettura. Velocità di circa 175 km orari e accelerazione da 0 a 100 km orari in circa 12 secondi. Su spinta degli importatori locali venne realizzata una limitatissima serie dotata di compressore Volumex, commercializzata nel 1981 poco prima della cessazione delle vendite. Ne vennero costruite 1801. Al giro d'Italia automobilistico del 1974, la Fiat schiera, oltre l'X19 124 Abarth, una strana vettura denominata Fiat Abarth SE030. È una coupé a due posti, dall'aspetto sgraziato e grezzo. Il motore, posteriore longitudinale, è il V6 della Fiat 130 coupé, con cilindrata portata da 3.200 a 3.500 cm³ e 285 CV di potenza. Il cambio è uguale a quello della de Tommaso Pantera. La vettura verrà portata in gara da Giorgio Pianta, che conquisterà il secondo posto assoluto dietro la Stratos Turbo ufficiale. La SE030 era la variante racing della X120 ed era candidata, assieme alla X19 Abarth, a diventare la portacolori della Fiat nel campionato mondiale Rally. Il cambio di marchio del modello, da Fiat a Lancia, e la scelta di marketing di realizzare la 131 Abarth fecero accantonare il prototipo. Nel 1979 venne istituito un nuovo regolamento del campionato mondiale Marche Gruppo 5. Dopo l'esperienza con la Stratos, la Lancia decise di partecipare con la Beta Monte Carlo. Il progetto è portato avanti dall'ingegner Gianni Tonti con criteri avanzatissimi per l'epoca. Aerodinamica e design furono sviluppati nella galleria del vento Pininfarina. Il CX era variabile da 0,32 a 0,40 in base alle regolazioni della lettone. La carrozzeria era in fibra di vetro e Kevlar. La meccanica, che per regolamento doveva conservare lo schema a sospensioni originale, aveva assetto completamente rivisto per le elevate prestazioni. Il motore deriva dal bialbero lampredi con cilindrata ridotta a 1425 cm³, per rientrare nei coefficienti di regolamento, testata a 16 valvole derivata dalla 131 Abarth, iniezione meccanica Cugel Fischer e Turbo KKKK. Le prime unità vantavano una potenza di 330 CV, portati a 370 e successivamente a 400 CV a 9000 giri con pressione turbo a 1,2 bar e 450 CV a 9500 giri con pressione a 1,5 bar. Nel 1982 la cilindrata verrà portata a 1773 cm³ con potenza vicina ai 490 CV. Il cambio in innesti frontali realizzato da Colotti. Freni Lukid di grosso diametro e pneumatici 225-25 al avantreno e 305-50 al retrotreno su cerchi campagnolo da 16 pollici. La vettura pesa 780 kg. In base ai rapporti all'aerodinamica aveva velocità di punta tra i 270 e 315 km orari. Pilotata da Patrese, Civer, Alboreto, Ghinzani, Gabbiani, Rohr, vinse il titolo nel 1980 e nel 1981 contro avversari di assoluto livello, come la Porsche 935 ritenuta imbattibile. Contemporaneamente allo sviluppo della gruppo 5, in Lancia si studia le rete della Stratos nei rally. Dalla Monte Carlo nel 1980 deriva il primo prototipo chiamato Abarth Lancia SE 037. In breve tempo evolve in Lancia Rally 037, prima gruppo B della Lancia esordisce nel 1982 e sarà iridata nel 1983, passando alla storia come ultima auto non a trazione integrale ad aggiudicarsi l'ambito titolo. Un bel esempio di sportiva all'italiana, figlio di un periodo florido per idee e progettualità. Una vettura allo stesso tempo incompresa e rivalutata solo di recente. Un'auto veloce, piacevole da guidare, divertente e robusta nella meccanica, che con pochi accorgimenti diventa molto affidabile e sicura. Tra i punti deboli, la frenata e la boccola del cambio già citate. Per quanto riguarda carrozzeria interni, le cerniere delle porte che tendono ad allentarsi e cedere, la fragilità dello sportello che copre la capote, i supporti degli schienali che si spaccano, il dei violuci. I particolari specifici di carrozzeria interni sono praticamente introvabili, mentre per la meccanica, trattandosi di componentistica comune ad altre vetture del gruppo Fiat non ci sono problemi. È una vettura interessante dal punto di vista collezionistico. Ne hanno costruito poche, ma si stima che una buona percentuale sia ancora in vita. Nonostante la tendenza ad arrugginire, l'utilizzo nelle competizioni e la deprecabile moda negli ultimi anni di smantellare esemplari in buone condizioni per realizzare copie della 037, la disponibilità è buona. È importante storicamente, in quanto è la prima auto ad essere interamente sviluppata e costruita nel nuovo stabilimento di Grugliasco della Pininfarina. Inoltre è la vettura che ha inaugurato la nuova galleria del vento della Casa del Design. Ma soprattutto è una vettura bella da usare, magari su qualche bel tracciato di montagna, dove regala sensazioni di guida da gran turismo di alto livello a costi accessibili, ma non ancora per molto. Grazie per la visione!